prego vado a cercare un attimo la Ale prego 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 Grazie. 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 Lei è la signora di Sanofito? Non si preoccupi. No, non mi preoccupi. No, ma mi hanno chiamato al telefono. Sì, ma che volete? Siamo la polizia di Firenze, dell'arcolso di Firenze. Allora, lei conosce, non so se si chiama Usain, perché non lo pianta. Tanta retta tutta, non lo ha rubato qui. Ho detto che noi abbiamo trovato dei documenti, cioè sia il suo numero che quello di Usain. E quindi stiamo chiamando, perché magari sono dei documenti di Sanofito. Sai, apposto, apposto, papà. Io però, lì, non sapevo, dico, sì, ma io non ho visto il set. Quindi, anche il ragazzo. E' quello che è tutto nello? Stato a vita? Sì. Oh, sì, caro. Vengiamo. Poi lui ha capito. Vieni. 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 Tanta. Vieni. 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 I numeri nostri, i numeri nostri scritti, si è analizzato da un po' meno, oh, ieri è molto meno tragica, tre, sei, almeno no, sì, no, perché, capito? No, ma dentro la roba, comunque già teniamo la roba, se non è un po' più denica, un po' più basso, sì, dobbiamo avercene, no, tre, tre, due, uno, due, tre, tre, tre avanti e tre dietro, e in mezzo d'ora. No, no, vabbè, basta uscire, però, vabbè, vabbè, si fa così l'altro, no, però, si è un po', oh, sì, ma è un po' più denica, si vuole essere l'inversativo, per chi ha, no, perché poi, allora, questa luce, loro, ci devo fare tutti i loro giochi, tutte le loro, per capito, giochano con le luci, no, più che luci, poi fanno con le cose strane loro, ma c'è? Prova un po' a passarla, hai capito qual'è? Sì, 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 no, perché era il blu. Ma se in una mettiamo invece le luci, perciò, ma c'è un po' a passarla, la facciamo esplodere, se ne facessimo così le barre eletticali che scende, per delimitare gli stanzi. Direttore, invece, no, magari found my family, però, che tu, 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 scendono quattro bande di cuocco. Cioè, se sono cose provate, sono cose che ci aiutavano a noi, se dobbiamo poter vivere, questo è una testa. No, è un po' stancato, c'è un po' di cosa fanno vedere la virtù. Vedi come c'è un tipo. Cioè, penso alla licenza di chi ho visto. Dopo questa, stasera, viene, ti ho spegnato nella lista, ci serve la macchina, viene appunto. Però guarda che tre di queste, secondo me, fanno il necessario. Tu l'hai visto lavorare tutti i giorni? No. No, io dicevo di fare come se fosse... Allora, loro questa luce qua, ce l'avrebbero sul tavolino. Avete visto come si è aspettato? Allora, loro c'hanno un tavolino che sta qua, c'hanno un tavolone lungo, diciamo, fanno un lavoro al tavolino della compagnia. Allora, se noi gli mettiamo tre luci a neo qua... E riaccendere il petire... Sì, va bene. Bello. Non può andare a fare io. Però quando è il mio, così prezzo, io. Tre luci... Ah, raga, quando andate a vedere, vi giocavi? Tre luci andiamo qua, tre luci qua e tre luci dietro, cioè qua. Dovevo mettere un'altra peccata qua, ma possiamo anche usare qui il petire che già c'è, cioè noi abbiamo fatto la luce al giorno. Ma il neo è un altro luogo, no? Quanti quant'è? Il neo, questi sono 25 watt. Quindi... Tutti in canale. Eh? In canale. Sono 350 watt. Quindi... Massimo, ce l'avevo a costruire il neo? Io posso pure costruire, certo. Le lampadre o ce l'abbiamo? Sì, le lampadre ce l'abbiamo, se si compra il materiale, il reattore con lo starter oppure l'elettronico. I reattori ce l'abbiamo, se ti compra solo gli starter e... Ce l'abbiamo i reattori? Sì. Non sono così sicuro. Tu mi hai detto che ce l'abbiamo, Massimo. I starter ce l'abbiamo. Ah, i starter ce l'abbiamo. Cioè, almeno c'erano, ho visto la scala, doveva un policerco. Poi questo non è un merda, perché questi sono quelli... Non sono... Non sono... Non sono... Non sono... Guarda, qui direi che portano... Anche quelle un po' più grosse delle lampade. Eh, quelle un po' più grosse. C'è un po' più grande, pure. Non fa se c'entrano, perché è un passo differente, ragazzi. Un passo della pagina di quelle più grosse, perché noi potremmo costruire proprio su tutti gli stessi. Sì, se vuoi proprio moltissimo. No, proprio sull'istituto, proprio sulla pegliazza. Sì. Ah, no, ah, su io, eh, oh, io. Sì, se vuoi. Sì, se tu sai cosa fa, ecco, no. Non c'è di... Ma se lo puoi come fare, no. Ma quindi, già hai capito che tu mi fai? Sì. Sì. Sì, ma se non c'è da i compi. Vi attu-re. Sì, sì. Allora, che ne ha? Qualche è di tutte le scuole ci sono? Che è di... E' di... E' di... E' di... C'è 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 di... Il segno non si decifra, l'apparenza non si decifra. Il segno non si decifra, l'apparenza non si decifra. Il segno non si decifra. Il segno non si decifra. Grazie. 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 se fai il puntamento di due o tre pareti e basta vai, vai, entrare arrivo la corda ancora 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 sì Alla tedesca, no? Alla tedesca, vero madri? Certo. Ah, guardiamo anche che in realtà accadrà la prima tia. Ma perché no? Perché no? Comunque devo studi una cosa, così è molto meglio. Tanto quelli che stanno a passare, come se stavano al cuscine, come se stavano a passare. Posso andare? Posso anche essere a passare a passare. Se non lo so, io si ricordariamo. Lasciami! Lasciami! Vai! Lascia! No, dai, scopri! Adesso, cambiamo. Lasciami! No, dai, scopri! Vino la sua qua! Eh, sì, facciamo. Sì, facciamo. Sì, facciamo. Sì, facciamo. Sì, facciamo. Prendere il raccordo. Quindi, oltre, non ti disturba le guinte, no? Per i funzionamenti. Sei? Tu? Non ti disturba le guinte. Chi? Per i funzionamenti. Ciao! Sì, ti disturba! E adesso, che facciamo. Tu? Sì... Adesso, fia qua! Non c'è altro che facciamo. Beh, c'è altro che la sua acquista. Ti danno? Allora, dopo il fatto, che riguarda un problema. Grazie. 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 Ma hai detto stanotte che mamavi e ti butti per la porta. Oppure arrivi... ALTIMO! Cittano i tempi e me. E io con questo che ci faccio? Era uno scherzo, scusate... No, come è che ti dice? Era vino? Sì, no. Scherzo. Ah, devi guardare... Scherzo. Scherzo. Ma perché può essere un bambino? Già, avevo troppo in alto. Va bene, va bene, va bene. Quello va bene, sembra anche aiuto. Va bene. Allora, adesso c'è l'erbiare col vino... E io stessi dall'altra parte? Siete tre ombre. Siete tre ombre. Allora... Va bene, ma sei a dire... ...e tu se non è più o meno... ...ma che io volessi arrivati sempre? Allora, ho sbagliato. Ma chi è? Ciao! 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 Siamo arrivati in alto! Sì, prendo la scappa! E te ne arrivai! No, madre in modo... Allora, facciamo un disegno lucide centra una volta per sempre, Il problema è che continuamente lo spostano, smontano, non lo so perché Ma chi? Il fantasma del valle? No, lo so io che sto a trattare Ok, ma ciò che ragazzi Io non ho capito qualcosa, ma il quadro è un schiacciolato No Guarda che è stata quella pista Guarda che è stata quella pista Ma il schiacciolato o no? Schiacciolato Ma poi il schiacciolato è un battito di moda Ma io, ma se non ho detto a me che sono stata in vacanza Le stesse settimane, non vedi dei teatri Non si schiacciava più È proprio out Se state, è proprio come l'arancione con il nero No Scusate Vieni a mano Scusate Vieni a mano Vieni a mano Vieni a mano Devo scacciolare Fuoliscena, no? Non è spostato tutto Ma non c'è 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 Non c'è Non c'è In console Che accende Senti Vuolettere tantera Vieni a mano Vieni a mano Vieni a mano Vieni a mano Allora, numero canale 1 Canale 1 Buonasera Buonasera Che è il canale 1? Numero 2 Questo è il 2 Questo è il 2 Se pure il 3 però Allora il 2 è sbagliato Numero 3 E' il 4 Chi c'è là? Il 4 è su Aspetta Aspetta, bravo Allora Buonasera 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 Cinco, eccolo. Numero sette, sette, che c'è? Questo, c'è niente, c'è niente sette? Qua non hai segnato niente nel sette, numero otto, numero otto, niente giusto? Nove, niente, giusto? Dieci, dieci. Ma perché non capisci tu? Sentirei a me da fumare la piaretta, eh? Ciao, ciao. Undici? Undici? Dodici? 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 Tredici? 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 Quattordici? Quattordici? Questa qua c'è 20 centrale, però sono un po' più indietro. Quindici? Indici non dovrebbe essere niente e invece no. che sono parti come questi ah, questi sono 16 17 17 17 stelle inutili 18 altre stelle inutili 19 niente ah no ecco allora 19 che cosa c'è scritto sopra il 19? niente ma c'è scritto qualcosa? il 19 non c'è scritto niente è un sagomatore no? allora per una cosa no perché secondo me è stato invertito 2 col 19 non so chi ha truccato il 2 c'è scritto luccioli il 2 è un uccioli 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 scusami il 2 doveva essere il vice il 3 non lo fa il 2 è un uccioli quello che abbiamo buttato ma tu lo stai scritto? ma tu lo stai scritto? no vabbè c'è scritto ok allora 19 poi è continuo a scritto scendio il po' scendio il po' scendio il po' eeeh eh qui c'è un po' si si io ce lo puoi e va arrivo si scendio il po' ma quale stagione facendo? poi vieni fin non dovete spendere non dovete spendere non dovete spendere grazie grazie bene fate il eh bene 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 nessuno eh qui c'è un po' una lunga tadaaa no no è troppo ok un po' il centro come vado a puntare stico? a posta di ambiglittura oh bravo 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 un altro pochino 22 ok non c'è? non so 22 ecco non c'è? non è stato niente 23 wow ecco lì sì no sì 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 e i quattro sì Scusami, allora facciamo un'altra cosa, ma avete toccato tutte le luci, cioè queste non c'erano, non li hai messi, vai, allora proviamo un po', 7, 8 e 9, fammi capire Setti, ah questo è il 7? Sì, ok, sono quelli fuori Scusami, ascoltiamo avanti, avanti guarda 8 8 riparate se è appena ma se è appena avanti se ne trova troppo ancora un po' se ne vado su ragazzi 9 9 ok qui abbiamo 17 18 24 allora ragazzi mi chiede a sentire due secondi tutti 9 10 20 20 20 21 21 21 22 22 23 24 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 29 29 30 29 30 30 30 32 32 33 33 34 35 35 36 36 36 37 No, perché qualcuno fa il gioco di Gesù, no? Un po' di blu, un po' d'ambra, fa il violetto. Quindi poi levi il blu e il blu e il blu e il blu, un po' d'ambra, il blu, un po' d'ambra. Che bello, bellissimo. E poi invece il scherzato, il scherzato. Prendiamo la sua rifiuta. Vabbè. Allora, su due, su due? Sì. Le luce erano su 22, vero? Sì. Era su 22. Accendi quella che è la memoria lucciole. No, la memoria lucciole era questa qua. Ah, era 22. No, era la memoria 5. Ma, memoria 5, 22. Sì, sì, però prova accendere il 22. Basta il 5. Ecco, è vuoto. Qua noi abbiamo segnato, avevamo un quattro americana parverdi. Accendi il 22, vediamo che c'è. Eh, quella c'è. 23. I tagli gialli qua abbiamo. Il 24 è la sala. Il 24 è la sala. Nel 23 avevamo il sacomatore ieri. Ok, il 24 è la sala. Ok, allora le lucciole le mettiamo su 24. Ok. Così ci abbiamo corrispondente, no? Aspetta. Qua mettiamo la lucciole. Sì, sì. Il 24 è la sala. Sì, metto quello qua, la sala. Poi viene come su qua. Il sacomatore diceva, si mette sopra. Però uno qua, uno qua, uno là, così, quando non sapevi che era al centro, sinistra e destra. E tenderemo. E ora non lo so, perché oggi passiamo di cosa. No, facciamo prima di farcela, anche un momento. Sì, sì. Non seguire ieri. Sì, sì, no, di farla tutta. Cioè, praticamente le lucciole le lucciole in lo stesso modo, quindi, capite, sono sempre quelli che poterlo fare. Cioè, questo è il futuro. Le lucciole le lucciole. Per morenizzare, sapete, quello... Per mangiare, potrebbero ingercire. Sì, era con il grado. Sì, sì. Lei non fa menore. Il senso. Che avevi fatto fatto un po' di flexio, ieri? Eh? Hai visto un po' di flexio, ieri? No. Sì. No, il jazz, diciamo, per eliminarli il flash. Ma chi c'è lì? No, non cazzo, no, il jazz devi eliminare di ambiente, come era quando stava a scendere la mia volta. Io che lo savano flash, cioè, era una musica molto calma, quindi già chiedeva con il jazz, con il tipo di sfumatura, ma non può cambiare nello stesso tempo troppi colori. Sì, non devi sentirti più spazio, poi dipende. Sì, no, dipende. Sai cosa mi manca? Sai cosa mi manca? Sì. Il secolatore là, che stava nel venti, stava nel venti. No, quello là. Vorreste stare sul... Eccolo. Questo che è? Trago destra. È il cinque. Quell'altro. Dai, ventidue. Ventidue? Sì. Ottimo,infondo. Ah,ий. Etenza, comatori. Ben! 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 Sensabile! Grazie. 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 forse oggi non passavo lo convivo in tutta la prossima allora grazie 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 allora mi controlli se questo è giusto e corrisponde e tu non sono più le luciole no, le fai tutto ok ho spostato un po' di cose ah ok, allora il sacro patore allora, questo è il sacro patore della bianunicana poi questi sono i due pc centrali dammi due 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 pc centrali terza pericano e due pari no, tre non c'è niente tre è il neo quattro quattro ok, cinque cinque ok, sei ok, sette sette fuori diciamo libera valito paolo dieci undici sedondici drenici 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 Questa è il 18? Sì Troppo 19 20 22 22 c'è niente? Che era quello che dici? 23 Il ventimune deve essere il sagomatore Il sagomatore dove è staccato? 23 24 Ok 24 è questo? Allora Le stelline che sono il 17 17 17 No, non è il 17 Allora scusami Le ruccele voglio dire Le ruccele era No Questo 18 18 E allora metti ci passava sul 18 Il ventimune è 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 il ventim Soprattutto è l'ampasina vostra, è un piatto sfasciato, si è carciato a capo. Infatti ho chiestato su una sala, ci sono dei vicini qua sopra, anzi dei vicini qua sopra. Senti, che cosa manca? Cosa manca? Guarda un po', leggiamo tutti i controluce se ci sono tutti. Controluce sono sedici, quindici, quindici, sedici, ok, e ventuno, quattordici, c'è il ventuno, no? Contro. No, quattordici, c'è il centrale stesso verde, quattordici, quattordici, ventuno, e avanti questi, ok, poi danni con gli amma, danni. Gli altri mi ritorno? Gli amma sono i dodici e i tredici. Ah, dammi, lascia qui, ok, i gialli? I gialli sono, sono, i diagonali? 23. Ok, poi, dammi questi qua centrali, adesso, allora, è brutto. 10. 1, 2. Ok. E qui, questi adesso, esprimi tutto, ok? Questi ce l'abbiamo. Poi, dammi il 2, il 5 e il 6. Allora, il 5 via, e il 4. Ok, perfetto. Il 2, il 22 è l'altro sacro, eh? Sì, ok. E il 24. Ok. Facciamo tutto. Ora abbiamo riaccettato tutto. Grazie. Questa è una... 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 Perchè, ho messo la mia... Giacciola, tu ho messo la seconda... Questa è la prima... Non vuoi sentire? Non c'è una... Non mi è vista. Non c'è una... 2. Grazie. 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 Quattro. Andra. Prima Americana. Andra. Eci. Andra. Andra. Unica Carolina. C'è venti. Solo quella parte più alta di me. Ok. Cinque. Eci. Quattro. Quindi è essenzialissimo. Che sei acceso è? Si si si. Stiamo l'attimo rivedendo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Stop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Ok. Stop. Ehi. Allora... ... 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 Grazie. 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 Così va bene. Ah, così, no, se così ci ho visto, da questa villa ci ho visto... RENZIO! Oh, sto parlando io, se? Eh... Così, dalla prima villa ci ho visto il corpo del proiettore. Ok. Così sta in coperta. Slega. Ah, ma no... ma ero solo le accontro... Però... che sto dicendo quello? Però sto dicendo che non l'ha toccato il Toni. L'abbiamo toccato, non gli ho il Toni, ce l'ho io. Ha toccato, ha toccato. questo è il disegno luce che viene lavorato tre giorni in modo camminuto lo riparto ok, allora adesso mi dai il centrale il verde centrale spegni tutto il resto guarda, guarda il verde centrale verde centrale dove sta la pianta? dove sta la pianta? ce l'ha a Daniera Daniera c'è, presa la pianta che ha fatto? eccolo eccolo 14 lascia solo il 14 vedete la scala? ok 15 mi ha fatto 10 mi ha fatto 10 4 minuti Grazie. 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 Alberto? Sì. Sto aspettando quello di 100. Arancione centrale, questo? Solmente un piano, carica. 20, via questi e dai 20. Grazie. Grazie. Questa č il cip, guarda. Entra nós che ne vocava. Ero come banda. Fade un'ai-pauna? Tutti! Mette un'ai-pauna, tre! Un'aiaaaaa flavour. Grazie. 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 Io il mio amico mi sono andato a lavare? No, ma sono venuta a chiamare, è l'ora in me. Io, io, io. No, ragà, qualcuno ha toccato e ha messo mano. Allora, tu stai fatto due cose che non bisogna fare. Uno, cadi, ha detto, l'altro qualcuno è andato a smandruppare questi nomi. Sì, ho stato due su quattro, su sei, su dieci, su doci, cercando di canare. Se fa così. Di cui non hai la segnata. O se ne ha con due. Ma io scrivo io che lo spostavi che tu, ma io le spostavi con la sola, cercate di sistemare l'automomento. Ma che cazzo c'entra? Nelle lucciole, perché? Le lucciole che stavano sulle cose, su 24, stavano su due. Perché c'era quella attaccata? Perché c'erano delle cose che non c'erano? Non c'erano due per la parte del telefono, non ricordo. No, non c'era l'attacco su due, perché stavano qua. Non si mette su due. Ma io non posso avere permesso su due. No, lo mette io, l'ho domandato. Ma Massimo, te l'avrò detto che sì perché non senti io. Ma te la provai da me, io non ho parlato. Ma mi sembra serato, perché io ieri sera ho fatto le memorie. E le memorie non stavano. Io già sono sottopeso, ma così. Sono sottopeso, sì. Va bene. Grazie, mi cala di l'antarocco. Hai rispettato? Non stai, però tornerai alle vacanze. E io invece pagherai per stare sopra qui. Allora, questo qua ci... 22. 22. 25. Ambo! Ok. Ora dammi anche 5, 22 e 5. Ma ci siamo ragazzi questo che parli di prezzi, grazie. Mi dicevano che era fioco anche ieri. No, anche ieri, no? Sì, la comandata è affettività. Mi piace in giro? E' quello con la prima settimana? Vai in alto. Ah, con il morto no. Ma non c'è, c'è una lampada. Ma non c'è, c'è una lampada. Ma non c'è, c'è una lampada. Sì, mi sono sottoveso pure. Grazie. 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 Via 22. Via. La 5. La 5. La 5. La 5. La 5. 5. c'è stato 5 io a 22 Francesco e poi c'è l'altro Francesco 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 quello che ci devi essere ah insomma lui c'è e noi noi vediamo grazie 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 questo è 22 grazie Grazie. 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 Spendi il... ...6. Tu hai il 5, spendi il 5 e il 6. No, allora, apriamo. Spendi il 5 e il 6. Ok, spendi il 4. Spendi. Spendi il 4, spendi il 4. Spendi il 4. Spendi. Spendi. Io sto concentrato un po' su cui fossero stati, quindi finisci la migrazione. Spendi. Spendi. Però qua c'è una ragazza. Ah! Qua c'è l'acqua. E si finisce un po' la zona buia. Farsi e qua fuori Grazie Allora lascia tutto E va bene il 6 Grazie 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 Mini Arrivino Grazie 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 Vi алось Grazie uno ti da, cioè mette tutto il resto un po' in buio, contro la luce, col colore e vocalizza quello che sta facendo però oltre per esempio a questi posso dare, che ne so, metti che il chitarista sta a destra, ti potrei dare anche così sì, anche, insomma, da quello che vuoi in questo senso, sempre cerca di dargli la piana piana, la luce, se no e poi un'altra cosa che puoi fare, con questi qua, eventualmente questi centrali, se il quartetto occupa molto spazio, li allarghi un po' di più perché tanto quello che sta davanti c'è la luce, però nel caso questi qua li potresti usare per fare il piazzato davanti sì, perché dice che c'è un quartetto luce, senza prendere un batterista, che tanto c'è la sua luce, gli altri tre che si muoveranno davanti quindi dici di avanzarli proprio, cioè di avanzarli no, di allargarli, solo allargarli, perché rimangono comunque là dietro, non si mettono sul paciente ma adesso questa qua, dammi un po' la segna se questo è solo loro due accesi, dammi solo loro due eh no, c'è pure quello sensuale, sono senza rincare sono due, io tu non sai più, ma hai segnato il tuo, ora l'ho giunto il set io penso non c'è questo, senti guarda, guarda, guarda che sta lì, tra chi è il suo test? chi è quella spavola giuda da in mezzo? quella può essere che sia la vera della lampada che sa in mezzo ah, io guardo, mi sono sempre aggiunto una lampada vera 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 sì, quella è la vera della lampada è sbiellato, quindi, che per questo? sì, adesso, se va allargo un po' così si camuffa gli andavano un po' allargliare vengo un attimo forse così capisco, come si manovra come si manovra, come si manovra io sono, sono la guardia a barri io sono, sono la guardia Grazie. 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 Manu, sono i medici? Sì. Più o meno sì. Perché devo fare? Forse dovresti, c'è questo qua, la giornatezza, con postulazione gestante verso la platea. Ma in volo. Adesso bisogna chiudere. 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 Quante parte parte. Quante parte parte. Adesso bisogna chiudere. Mariano. Adesso bisogna chiudere. Anche noi تھano. Grazie. 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 La loro fase di corpo ha般ari. Grazie. Risputo. A fare. Risputo. Ma non la suele quale è tanto... No... Mercado. Questa qua? Spenda, spenda Qualcosa a pagliato? Oddio, vuoi servizi? Ma se non è stata accesa, sta stando adesso Ho trovato Non si piazzano nell'altro Facciamo un effetto greco Non so come prendere Non c'è un problema Non c'è un problema 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 Mais C'è un problema C'è un problema La tutta è un po' bianca Volevo vedere se è importanti Mi faccio Tieni, volete Tu Tieni Ma ch promotional È popoletta Santa Stole Grazie. 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 Facciamo prima loro? Sì. Guardate se... Tanto devo guardare nel mucì, poi... Lascia il piazzato in base per l'ora del vedere, posso spegnere i servizi, così quanti mangiare il servizio, se no, allora, va bene? Lascia il piazzato in piazzata, non magari metti la mia, ma lasciala tutto l'accesso. E' un'espegno! E? Un'espegno! Stai uscendo in stereo? Sì, adesso mi stavo in stereo, questo non è in stereo. Non siete? No. Potreste. C'è ancora? No, non so io questo. Io più ho abbassato tutto anche. No, non so. Il canale puro, sacco un attimo 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 Il canale puro Il canale puro Il canale puro Il canale puro, sacco un attimo 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 Ti metti a attaccarla? Eh, Francesco! No, no, sì. Attacchi, attaccarla, perché non sono toccato le tre. Non lo attaccarlo. Attacchi, attaccarla, perché non sono toccato le tre. 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 Grazie a tutti.